Grazie a tutti per la distrugia di Tarletta. In realtà l'evento della distrugia è una storia di legge tra il cicatraglio, del 1703. Tra i soldi del pacchio lo fanno gestare, proprio perché chiaramente è passicato, quindi molto probabilmente ci sarà qualche evento e qualche mensa. Per raccontarvi questa storia della distrugia, che è molto particolare, è in realtà un duello cavalleresco che avrebbe tra 13 italiani. Era un risultato che si battono tra di loro e vinceranno gli italiani, per questo il libro di storia mi va raccontato. E si racconta che gli italiani, quando vincono questo duello, verranno in protezione alla catturale di Bono. Si sta costando l'icona della Madonna, l'icona della scuola, e quindi prova di un'altra, vorrei che sarà un'evento, ma non mi sa, qualora ci sia un evento e non potrà parlare, ci facciano entrare per poter ammirare quella catturale. Vi volevo dire che noi abbiamo in Puglia quasi tutti i borri antichi composti da pietra, quindi quello che vedete è pietra calcarea, che è la caratteristica della nostra Puglia, tra l'altro con, vedete, bianco e macchino a fiori ammirato, dorato, quindi pastelli, cattedrali, centri storici, catturale, tutti caratterizzati da questa pietra.